Sicuramente una grandissima vittoria al primo turno con questi numeri, non ci fanno che sperare anche che nel 2024 qui a Prato si possa fare davvero un bel colpo e vincere le elezioni. Quindi Fratelli d'Italia detterà la linea sugli alleati di centrodestra? Non è tanto dettare una linea, si vince con una squadra come è stato lì a Pistoia, noi stiamo lavorando per questo. Il centrodestra unito è vittorioso in gran parte delle città d'Italia e quindi noi stiamo lavorando per unire il centrodestra anche qui a Prato. Questo però vi dà la forza per imporre un vostro nome, un vostro candidato a Prato? Sicuramente noi faremo i nostri nomi, abbiamo già dei nomi infapabili e su quelli che stiamo lavorando, però naturalmente la scelta deve essere collegiale, condivisa con tutti. E lì il nostro partito che ora è il primo del centrodestra in Italia deve fare, deve giocare il suo ruolo. Come giudica la performance della Lega, in particolare a Pistoia ma in comune anche come Lucca e Carrara? La Lega purtroppo è in un momento negativo dal 32% delle scorse politiche a ora, quindi sicuramente ha da lavorare nel cambiare quello che è una classe dirigente a livello regionale che non è più competitiva con gli altri partiti di centrodestra.